L'altra parola chiave insieme a PNRR dell'anno del 2022 delle professioni sanitarie è quella della formazione CM perché siamo nell'imminenza della scadenza del triennio. La vostra presidente Barbara Mangiacavalli è stata molto chiara e diretta verso i colleghi che non saranno in regola al 31 dicembre per quanto riguarda il monte crediti da totalizzare. L'Opi Napoli che lei rappresenta in questa occasione che posizione ha in tal senso? Innanzitutto come ordine noi abbiamo iniziato una campagna di sensibilizzazione per spronare in qualche modo i colleghi a formarsi e a fare aggiornamento. Le professioni sanitarie e quindi anche le professioni infermieristiche sono professioni che devono necessariamente aggiornarsi lungo tutto l'arco della loro vita professionale e quindi noi facciamo un forte investimento sulla formazione con corsi residenziali ma anche con una formazione itinerante e poi offriamo anche una formazione insieme alla federazione in FAD. Quindi necessariamente al termine di questo triennio per chi non riesce o non vuole a questo punto aggiornarsi in qualche modo deve scattare una forma di sanzionamento o quantomeno pensiamo che chi risponde all'obbligo formativo deve necessariamente essere premiato. Deve esserci una differenziazione, non si può a questo punto essere tutti uguali. Da presidente dell'ordine quali saranno i provvedimenti che lei adotterà quando avrà appunto davanti i nomi e cognomi di chi non si saranno formati? Diciamo che a prescindere dalla formazione è alla base della professione perché un infermiere esperto e quindi specialista deve essere formato quindi gli ACM devono essere obbligatori e devono essere fatti in modo tale da formare specificamente il professionista quindi mettere in essere quelle che sono le proprie competenze e anche perché noi facciamo salute quindi è fondamentale che noi siamo preparati in questo. Diciamo che noi metteremo in essere dei piani che daranno la possibilità a chi non si è formato di formarsi e quindi di raggiungere i crediti del triennio. Noi come ordine di caserta lo facciamo perché siamo provider quindi lo facciamo già di nostro quindi dando la possibilità ai nostri colleghi di formarsi ma io credo che soprattutto la formazione è fondamentale anche sull'aspetto delle assicurazioni perché le assicurazioni cercano di trovare il cavillo per non coprire e quindi se uno non ha raggiunto l'obbligo formativo si ritrova in una sanzione dove può non essere coperto dall'assicurazione. Questo è un fatto che potrebbe esserci sia nella colpa grave, nel dolo, poi in tutto. Però io parto da un presupposto. Noi siamo dei professionisti e ci dobbiamo formare altrimenti non garantiremo mai il sistema salute. Quindi la formazione è alla base di tutto. Lei ha ricordato e ha fatto bene appunto la normativa che impone di fare almeno il 70% dei crediti altrimenti si è scoperto, insomma le compagnie non assicureranno più i professionisti. Ci sono ovviamente anche altre forme di sanzione che vanno dalla sospensione fino addirittura alla cancellazione dell'albo. È anche successo negli anni scorsi, una situazione sicuramente da scongiurare. Diciamo che il posto di lavoro è sacrosanto, quindi voglio dire su questo. Noi dobbiamo mettere in condizione il professionista di formarsi. Io ci tengo a precisare anche che nella sanità privata, a differenza della sanità pubblica, chi lavora nel pubblico ha gli otto giorni di formazione, mentre invece chi ha il contratto della sanità privata non li prevede. Quindi diciamo che ci sono anche molte difficoltà da parte dei professionisti e soprattutto poi in questo periodo di pandemia dove non sono stati concessi i giorni per la formazione. I FAD vanno bene e possono dare la possibilità di raggiungere questi crediti, ma molto spesso ci sono dei corsi che devono essere fatti in presenza perché oltre alla teoria c'è anche la pratica che deve supportare quella che è la professione, quindi darci la possibilità di essere pratici anche in alcune manovre e quindi è fondamentale la formazione. Grazie a tutti.